Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo Digital Talk Unixport Manager. Questi appuntamenti come associazione li facciamo settimanalmente, li facciamo con esperti del settore dell'export, dell'import, della nazionalizzazione, di tutto quanto possa essere utile ai professionisti dell'export, quali sono gli associati Unixport Manager, per gestire, capire come si muovono gli altri, capire come funzionano alcune modalità di lavoro, come funziona il digitale, come funzionano le regole sul commercio internazionale, come poter entrare in alcuni mercati specifici, come poter gestire le relazioni con i clienti, le proposte dei loro prodotti, tutto quello che è un po' il bagaglio culturale degli export manager, che ora hanno la declinazione ufficiale Exim Manager, ovvero Export Import Manager, secondo quanto è stabilito con la norma UNI, varata nel luglio dell'anno scorso, proprio grazie a due anni di attività al tavolo di lavoro, in cui Unixport Manager era il coordinatore del tavolo di lavoro, che ha visto la presenza di UNI, ovviamente come ente normatore, ma poi anche SACE e tutte le principali associazioni di Exim Manager o che rappresentano gli Exim Manager sul territorio, quindi parliamo di IMIT, parliamo di Confartigianato, parliamo di CNA, parliamo di tutti gli stakeholder del settore. Ogni intervento che facciamo vede uno o due relatori e mensilmente abbiamo uno degli interventi che è tenuto e organizzato proprio da una parte dell'associazione che è specifica per il settore merceologico, che è il settore del vino. Questo oggi è proprio l'intervento dedicato al gruppo vino, gruppo vino che vi presenterò e gestito da Alessandro Satin. Nel caso di oggi parleremo con Davide Casalin, che è di Italian Wine Crypto Bank, e con lui andremo a fare un viaggio particolare, un po' speciale, nel mondo del digitale, pur parlando di vino. Attraverso il suo intervento vedremo come l'Italian Wine Crypto Bank agisce e propone degli NFT su importanti vini e etichette particolari e pregiate dei nostri prodotti italiani. Vedremo come i Non Fungible Token, che sta per questo l'acronimo di NFT, possono essere solo delle cripto di vini, possono essere legare cripto, vini e investimenti su prodotti fisici. Vedremo questo progetto, questo discorso dell'Italian Bank Crypto Bank, con Davide Casalin, che è uno degli ideatori del progetto. Quindi potremo con lui sviscerare se questo è un mondo reale o un mondo virtuale, se è un'opportunità o è troppo presto per gestire questo settore. Potremmo vedere se è giusto legare la tecnologia e le blockchain all'export. Tutti temi molto appassionanti, ma prima chiederei ad Alessandro Satin, che è il coordinatore del gruppo vino, come è arrivato a scegliere di invitare Davide Casalin a questo intervento. Grazie. A te la parola Alessandro. Grazie Marco, grazie a te dell'introduzione. Quindi appunto l'ospite e il tema di oggi già lo hai presentato benissimo. Quindi perché siamo arrivati a questo tema? Beh, diciamo che ci è piaciuta molto l'idea di legare un prodotto come è il vino, quindi un prodotto della tradizione, non è un prodotto lento in genere, o che almeno si crede essere lento ai cambiamenti, lento a recepire le novità, eccetera, come quindi il mondo del vino si possa legare a quella che invece è un prodotto nuovo, un prodotto nuovissimo, un prodotto di cui molti ancora non hanno ben chiari tutti gli aspetti. Anzi, direi che sono pochissimi quelli che hanno chiari tutti gli aspetti, perché quando parliamo di cripto, blockchain, NFT, sono tutte parole che sono un po' sulla bocca di tutti, ma ok, e molti fanno finta di aver capito, ma nella realtà non è semplicissimo andarle a capire. Quindi unire questi due mondi attraverso un'azienda che le ha unite fisicamente, o meglio, già forse fisicamente non è il termine adatto, vedi come a volte è difficile camminare sul filo del fisico e del digitale. Però insomma, che comunque le ha unite realmente lo posso usare, forse neanche quello, ma alla fine, vedi, comincio già ad imbrogliarmi. Quindi io farei così. Davide, ti faccio parlare, ti chiedo appunto di introdurre e di parlare dell'argomento come se tu lo spiegassi a un bambino. e immagino tu ci sia abituato, perché parlando con molte cantine, immagino tu ti sia sentito fare anche domande, diciamo banali, banali per chi ci si muove dentro, ma non lo sono per niente per chi invece fino a ieri era magari in vigna a fare l'uva o a lavorare il vino, eccetera, eccetera. Quindi chiedo solo a chi ancora non lo avesse fatto di votare nel sondaggio, il sondaggio in cui andremo poi anche a leggere, di cui poi andremo a leggere i risultati proprio con Davide per cercare di capire o magari di rispondere alle domande che emergono da quello. Detto questo io mi muto e Davide ti direi parola 20-25 minuti più o meno, dai, io verso le 40-45 se vai lungo intervengo io, no, sto scherzando, ma insomma giusto per darci un riferimento. Ok, vai Davide, tutto tuo. Intanto grazie per avermi invitato, insomma questa, diciamo, una tavola rotonda più che una lezione dall'alto in basso. e quindi, diciamo, spero anche poi di raccogliere anche qualche feedback da parte vostra a conclusione. Allora, io inizierei prima facendo un discorso generale e dopo introducendo anche il nostro progetto nel dettaglio come esempio dell'applicazione di queste nuove tecnologie che sono relativamente nuove in realtà. diciamo che non do niente per scontato quindi comincerò a spiegare proprio fin dall'inizio fin proprio da la base che cos'è una blockchain. Blockchain, appunto, catena di blocchi proprio perché appunto ogni blocco, diciamo, viene considerato come un blocco di dati che passa successivamente a un altro blocco creando appunto una catena. In che modo? Ogni blocco contiene una serie di informazioni che sono inserite all'interno della blockchain da chiunque con wallet digitale che appunto è il modo con cui si interagisce uno dei modi di interagire con la blockchain può inserire dei dati all'interno della blockchain e alla fine di ogni blocco questi dati vengono distribuiti tra tutti i partecipanti alla blockchain. Quindi questo cosa significa? Che la blockchain è un buon sistema per notarizzare qualsiasi tipo di informazione e garantire nel caso per esempio degli NFT che ogni file informazione o dato comunque sia in quantità limitata. Questo poi lo vedremo funziona anche per quanto riguarda le criptovalute. Quindi che cosa vuol dire? Che se io voglio fare una raccolta di informazioni e registrarli in un database ed essere sicuri che l'unica copia effettiva di quelle informazioni sia in mio possesso e quindi sia quella autentica tramite appunto la blockchain e la criptografia ad essere applicata e soprattutto quello che viene chiamato distributor ledger quindi una copia di tutti i dati fatti tra tutti i partecipanti questo ci permette di avere un altissimo livello di sicurezza di che i dati siano reali che siano insomma non modificati e e che si sappia chi ne detiene la proprietà. Quindi partendo da questo poi si è andata a creare con la tecnologia blockchain le famose criptovalute. Ogni criptovaluta a seconda insomma si appoggia su una o su un'altra blockchain e hanno il vantaggio le criptovalute rispetto a le monete nazionali che insomma chi è nel mondo cripto chiama fiat con le criptovalute diciamo non si ha una banca centrale che controlla il sistema tutte le informazioni sono diciamo tra virgolette pubbliche e per ogni informazione ci sono più copie e quindi è impossibile che un solo ente possa modificare delle informazioni che poi invece vanno a rinfluenzare anche la vita di altri per dire se una banca decidesse di cancellare sul conto di una persona qualche zero nel proprio database in teoria è difficile da poi andare a a riportare indietro questa modifica o comunque di notare questa modifica mentre se una copia di tutti i dati è presente nel computer di ogni persona che partecipa appunto ai calcoli della blockchain andare a modificare soltanto una copia va subito a far scattare dei meccanismi che la blockchain ha proprio di base e verificare che effettivamente è stato modificato e quindi non è la copia autentica quindi questo è il principio con cui la blockchain decentralizza il controllo delle informazioni e quindi decentralizza nel caso delle criptovalute il controllo insomma di un asset che può essere appunto una moneta partendo sempre dal meccanismo appunto con cui si funziona la blockchain si va a creare poi invece un NFT che in pratica appunto abbiamo visto Davide tu hai messo non è ancora in condivisione le slide no esatto le cominciò fra un attimo ok non volevo dire non sapevo se era già parte delle slide o meno a posto no no ecco quindi con un NFT che sta per non fungible token in pratica un token che è unico quindi non è fungibile non ce ne sono altre copie questo è un altro strumento che ci permette tramite la blockchain di verificare in modo decentralizzato la proprietà di alcuni asset di alcune informazioni e di quant'altro e qui appunto è dove entriamo noi per l'applicazione con della blockchain al mondo del vino infatti adesso vado a condividere la presentazione allora noi sappiamo possiamo insomma quello che abbiamo dato per scontato che il mondo del vino ha diciamo tra le sue problematiche diciamo da una parte difficile accesso per per un cliente retail piccolo per accedere ad alcuni tipi di vini specie quelli più importanti come forma di investimento o come collezione per vari motivi il fatto che appunto tra trasporti conservazione eccetera non sia semplice la gestione e dall'altro anche la difficoltà poi anche a rivendere questi vini perché se per esempio io ho deciso di comprarmi una particolare annata di una particolare cantina e poi volessi rivenderlo per un guadagno o semplicemente perché non sono più interessato a collezionare quel vino sappiamo che per quanto sia vino è considerato insomma un asset non liquido perché è difficile la rivendita in modo veloce dall'altra parte poi andremo a vedere il perché la blockchain ci può aiutare in queste problematiche dall'altra parte per le cantine abbiamo che difficoltà quella di tracciare lo spostamento delle proprie bottiglie la proprietà delle proprie bottiglie la difficoltà anche lì di andare a tracciare il valore delle bottiglie nella vendita e quindi capire effettivamente qual è il il mercato su cui si spostano i loro prodotti e e poi ovviamente far capire la scarsità del proprio prodotto per quindi aumentarne il valore come sappiamo è più facile far aumentare il valore di una serie di un'etichetta fatta in 400 pezzi piuttosto che una fatta in 4 milioni quindi far capire far avere proprio la certezza del numero di bottiglie perché appunto sono registrate da qualche parte in modo immodificabile questo permette anche a dare un'altra percezione al al prodotto quindi tramite la tecnologia blockchain e l'utilizzo di NFT andiamo a risolvere questi problemi in che modo da una parte la blockchain esisce come notarizzazione di delle quantità dei vini dell'ultimo spostamento effettuato insomma di dove si trova effettivamente il vino e dall'altro permette a chi possiede l'NFT legato a un vino di passarne la proprietà senza neanche dover spostare la bottiglia stessa perché mi basterebbe per esempio avere un wallet per digitale insomma in cui contengo il mio NFT passarla a un altro wallet che magari in questo caso può essere proprietà di Alessandro e Alessandro si trova a essere proprietario della bottiglia che prima era mia oltre a questo con la possibilità non tanto degli NFT ma l'utilizzo di token quindi diciamo criptovalute legate al vino quindi in questo caso sono che vengono chiamate asset backed token in quanto sono supportate da un asset fisico in questo caso il vino possiamo andare a rendere molto più liquido il mercato del vino perché posso permettere alle persone di non acquistare una bottiglia intera di vino ma acquistarne una frazione o acquistare una frazione di un magazzino che possiede più bottiglie più referenze e quindi con andamenti del proprio valore diversi ecco quindi questo è quello che siamo andati a fare noi cosa andiamo a fare noi abbiamo creato un token che rappresenta il nostro intero deposito di divini e chiunque può trasferirsi questi token acquistarli venderli in qualsiasi momento però sa sempre che in qualsiasi momento può venire da noi e con quei token andare a riscattare un'unità diciamo una percentuale del nostro magazzino corrispondente ai token che alla quantità di token che ci viene a riscattare ecco quindi questo è uno degli utilizzi che abbiamo fatto della blockchain dall'altra parte invece grazie alla tecnologia NFT andiamo a creare un legame uno uno tra NFT e la bottiglia e quindi andiamo a identificare la proprietà e poi andare a tracciare la bottiglia stessa per garantire al proprietario che al momento non ce l'ha fisicamente in mano perché ce l'ha ancora in deposito da noi tutta la storia di questa bottiglia ecco qui alcune informazioni sul sul mercato relativo a questi due argomenti sappiamo probabilmente siete già informati su quello che è il valore del del mercato del vino da investimento o comunque da collezione appunto qua vediamo che sono 5 miliardi di dollari di valore tra l'altro secondo LiveX il mercato del vino è un mercato di investimento anche molto interessante perché ha pochissima volatilità rispetto a quello che sono stock market in questo caso abbiamo messo il paragone con l'SP500 e quello che sta succedendo in questi giorni dimostra anche che il vino è molto più stabile del mondo cripto che in questo periodo diciamo è proprio la dimostrazione dell'instabilità del mondo cripto attuale poi magari faremo una riflessione anche in proposito e dall'altra parte insomma vediamo che l'adozione delle criptovalute e soprattutto della tecnologia blockchain perché bisogna sempre ricordarsi che chiunque comincia ad acquistare a vendere criptovalute in realtà sta facendo un vero e proprio passaggio a un mondo completamente diverso rispetto a quello tradizionale che è appunto quello della blockchain e quindi imparare a usare anche un bitcoin o un ethereum come modo di conservare valore o fare pagamenti ci permette di capire proprio come funziona la blockchain e quindi anche la possibilità insomma di comprenderne il proprio il proprio utilizzo il proprio i propri vantaggi quindi vediamo che negli ultimi anni chi possiede criptovalute insomma sta aumentando appunto l'anno scorso del 178% qui una breve traccia del nostro business model ma diciamo che già probabilmente si è intuito i nostri diciamo stakeholders sono le cantine da una parte che hanno bisogno di tracciabilità garanzia del prodotto che sia conforme agli standard con cui è uscito dalla cantina e che rispetti anche tra l'altro i mercati per cui è stato destinato quel prodotto se io vendo un lotto a un prezzo particolare a un distributore perché lo venda su un mercato in cui sto cercando di entrare ovviamente se poi dopo lo trovo che mi viene venduto su un mercato in cui invece ho già altri distributori questo è un danno per la cantina se invece vado a tracciare e a registrare ogni passaggio sulla blockchain di questa bottiglia proprio tracciando la singola bottiglia posso andare insomma a evitare questi problemi e comunque fare un'analisi di come i vini vengono utilizzati poi abbiamo ovviamente il piccolo investitore perché ovviamente ha la possibilità di avere anche lui a sua volta sia la garanzia dell'origine della bottiglia dall'altra anche la possibilità di lasciare in custodia dei vini senza effettivamente doverli tenere in casa ma mantenendone la proprietà e la certezza della proprietà perché in un secondo momento se la bottiglia qui che corrisponde esattamente all'NFT che possiedo non sa dove dovrebbe essere ovviamente scattano delle una serie di assicurazioni e di controlli che vanno a tutelare il consumatore finale quindi questo è quello che andiamo a offrire poi agli stakeholders e ovviamente qui è una presentazione che spiega il nostro business model va a spiegare anche come da parte nostra insomma ci sono i guadagni insomma in questo progetto su cosa si basa come come funziona diciamo la tecnologia che andiamo a utilizzare io adesso questa slide non ve la andrò a leggere perché diciamo non è interessante per il topic di questa conversazione ma come andiamo a utilizzare questa tecnologia in vari modi intanto per quanto riguarda gli NFT abbiamo creato una serie di una collezione di NFT a cui abbiamo legato anche un aspetto più artistico e dopo vi mostrerò anzi vi vado già a mostrare un aspetto più artistico dell'NFT che scusate un attimo ve li mostro direttamente non so se si vede la schermata o se si vede sempre la stessa schermata si vede la stessa schermata la devo cambiare allora un attimo vado a cambiare schermata quindi noi cosa siamo andati a fare siamo andati a creare una serie di NFT che scusate qui condivisca ecco qui siamo andati a creare delle ci siamo adesso lo vediamo con la collaborazione di di Scalkin che probabilmente qualcuno di voi già conoscerà per collaborazione con varie cantine italiane siamo andati a creare un NFT artistico in questo caso in cui appunto non c'è soltanto non sono soltanto i dati di cui vi parlavo prima una semplice registrazione di dati ma c'è anche un'immagine di cui tramite una semplice la tecnologia NFT si può dimostrare la proprietà del singolo file legato appunto all'NFT e con questo NFT si riesce anche a riscattare la bottiglia che viene che è stata rappresentata insomma in questo in questo NFT artistico in questo caso appunto si tratta di vigne del suolo di di Argiano e insomma chiunque possiede questo NFT può venire sul nostro sito web e da lì riscattare la bottiglia inserendo il proprio indivizio adesso cerco di farvi vedere un altro esempio per esempio abbiamo un altro in effetti sempre creato da Biscalchin per Castello di Brolio 2015 quindi sempre in questo caso vediamo il Castello di Casoli e anche in questo caso appunto possedendo questo NFT si può riscattare una bottiglia tramite il nostro sito e quindi da lì abbiamo da una parte il memorabilia diciamo che viene fatto che corrisponde insomma all'immagine che state vedendo e dall'altro proprio un asset fisico che tra l'altro insomma dà una funzionalità vera e propria all'NFT che non è la semplice speculazione di cui si è sentito parlare si sente parlare quando si parla di NFT e ci dà la possibilità quindi di legare un vino che può essere riscattato dal possessore dell'NFT adesso tornerei alla presentazione adesso dovremmo essere ritornati alla presentazione ecco quindi tornando appunto a quello che abbiamo fatto noi proprio come esempio di come si può applicare la tecnologia blockchain al mondo del video appunto abbiamo creato una serie di NFT artistici proprio per attrarre anche l'immaginario di chi li acquista e non semplicemente insomma un cambio di tecnologia che però non non ha un aspetto visibile nel cambio abbiamo poi un marketplace che permette appunto l'acquisto di dei vini tramite criptovalute quindi questo diciamo permette di acquistare vini da qualsiasi parte del mondo senza avere particolari limiti a livello bancario o comunque di transazione appunto di vista appunto proprio dell'acquisto poi appunto la certezza della notarizzazione su blockchain ci permette di garantire seguire proprio bottiglia per bottiglia quello che sta succedendo e poi qua l'ultimo esempio di quello che siamo andati a fare in alcuni eventi di promozione delle cantine e dell'italian wine crypto bank stessa siamo andati a fare degli eventi in cui il biglietto era in realtà un NFT e questo NFT oltre a funzionare da biglietto per entrare alla cena dà anche la possibilità di avere alcune utility alcune funzioni che non sono limitate all'evento stesso in questo caso per esempio l'NFT per alcuni dei nostri eventi è servito a riscattare dei benefici da parte degli sponsor della serata o funziona anche come membership dei ristoranti in cui è stato fatto l'evento stesso e quindi dà la possibilità di accedere a degli sconti per chi possiede l'NFT diciamo che la differenza rispetto a una tessera di membership che è tradizionale è che io se voglio posso passare la mia membership a un'altra persona passando l'NFT e il proprietario del ristorante è sicuro che io non abbia fatto copie della carta diciamo per accedere al ristorante della membership e soprattutto permette di essere anche senza nome essere sicuri che quella carta quella membership non venga abusata perché appunto si può vedere effettivamente quante volte è stata usata la singola membership pur non avendo un nominativo legato alla membership stessa ovviamente questi sono alcuni esempi ma di funzionalità per un NFT se ne possono ideare molte conoscendo poi la tecnologia su cui si basa io passerei alla diciamo chiusura di questo mio breve intervento con un video di una di questi eventi in cui siamo andati ve lo introduco un attimo siamo andati a fare questa cena stellata dopo vedrete chi sono gli chef presenti e assieme poi a un artista che ha creato un pezzo unico durante la serata questo pezzo unico è stato poi distrutto e creato un NFT da questo questa tela che ha creato l'artista davanti agli occhi degli ospiti e e poi questa tela è stata inserita diciamo dentro l'NFT per quanto riguarda l'aspetto artistico e dall'altra parte l'NFT appunto ha quelle funzionalità di membership che sono andato a spiegarvi qui adesso facciamo faccio un attimo lo scambio di fermata a spiegarvi qualche minuto Grazie a tutti. 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 Come viene gestito il campo? Allora, diciamo che gli NFT sono iniziati più al contrario, cioè senza sottostante, solo l'immagine ed è quello che poi insomma che si vede ogni giorno quando c'è qualche titolo sensazionalistico sui giornali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi possiede. c'è un'opera d'opera d'arte, ovviamente è un pezzi. unico. un po' la ruol molte quei progetti probabilmente saranno quelli che sopravviveranno a questo tipo di croll come durante la dot com bubble insomma sono crollate un sacco di aziende perché semplicemente mettevano il dot com all'interno del proprio nome e invece però abbiamo visto la nascita di google di amazon soprattutto e quindi ecco questo è quello che succederà probabilmente anche con quello che riguarda la tecnologia blockchain in effetti e l'equipto only the braves o meglio only the best in questo caso non lo so come come si può dire allora senti io ti giro alcune domande perché abbiamo un paio di utenti scatenati anzi nicolò e venero vi ringrazio per le domande non le leggerò in ordine ma insomma una domanda che hanno fatto praticamente entrambi nicolò ci chiede come potrebbe scusami come potrebbe essere utile alle piccole cantine di vini non collectibles quindi che non fanno vini così straordinari da essere collezionati e mi leggo anche la seconda domanda di venera che diceva io cosa potrei proporre alla cantina che rappresento ad altri produttori in mi sembrano due domande se non simili estremamente legate sì allora secondo me almeno la tracciabilità è un elemento che interessa qualsiasi tipo di prezzo di bottiglia perché ovviamente garantire che quella bottiglia è italiana va anche nel nostro caso insomma e quindi andare a garantire che è un vero made in in italy va a sia tutelare il consumatore ma anche dare un valore aggiunto alla bottiglia stessa e quindi diciamo ormai il costo della tracciatura su blockchain si aggira attorno ai 50-60 centesimi bottiglie forse un po' di più ecco dipende a seconda poi della tipologia e dei volumi questo diventa accettabile anche per bottiglie magari non da 5 euro ma dai 10 15 euro in su insomma comincia ad essere un prezzo accettabile e quindi dà la possibilità di garantire anche produzioni di qualità media insomma che è quella che l'italia è tra l'altro più conosciuta nel mondo di avere dei buoni prodotti con dei prezzi accessibili questo ci dà la possibilità appunto di tracciare dove queste bottiglie sono nel mondo ci dà la possibilità tra l'altro anche di fare delle studiare del marketing ad hoc per i mercati di destinazione e soprattutto collezionare i dati sul mercato sul territorio stesso perché se vedo che la mia bottiglie che sono partite tramite un certo importatore sono state vendute principalmente su adesso dico non so potrebbe essere su hong kong però so che c'è già un altro importatore che mi fa più volumi su quel settore magari su quella nazione magari vado a cambiare il tipo di rapporto con un importatore o magari se io ho venduto quelle le bottiglie ad hong kong perché rimanessero ad hong kong e poi me le trovo in cina tanto per fare due esempi ovviamente riesco ad andarle infatti da questo punto di vista ancora niccolò ci chiede come evitare che la scoperta di eccessivi gray markets e o falsi non danneggi mediaticamente o commercialmente i marchi che si legano agli nft beh c'è da dire che l'analisi dei dati essendo criptato all'interno della cenda può fare soltanto chi ha la possibilità di decifrare quello che è stato registrato e quindi lo può fare la cantina o chi la cantina decide di condividere i propri dati quindi è un tool importante per la cantina per invece il consumatore ovviamente una tutela della dell'origine della bottiglia e però insomma non è detto che poi i dati devono essere pubblici per quanto siano condivisi essendo criptati non sono accessibili quindi io magari io cantina quindi io come dire produttore posso creare le nft e decidere a chi render pubblici quei dati ad esempio al mio importatore esatto in modo che anche lui sappia le cose ma non ad altri importatori o ad altre e nicolò ci ha chiesto al volo quindi la cantina stessa può imbrogliare è un'altra certificazione in qualche caso comunque c'è una certificazione che esatto e il problema io ecco sì diciamo che l'unico momento in cui diciamo la tecnologia blockchain ha i suoi non so se limiti o comunque la sua peculiarità proprio della garanzia è quando questi dati vengono immessi cioè la blockchain non garantisce che i dati immessi siano veri garantisce che non vengano modificati ok è certo certo una sorta di registro pubblico intanto su in chat sono già partite già partito il trading delle tessere dell'associazione in nft vedo scusa ma mi c'è caduto l'occhio adesso perché no abbiamo fatto anche tra l'altro ecco a questo proposito abbiamo fatto con qualche cantina chi possiede l'nft di quelli che vi ho mostrato alcuni di queste cantine hanno deciso di dare una membership a chi lo possiede allora infatti guarda io ci sono altre domande e le teniamo lì un attimo in sospeso ma anzi tanto volevo andare a vedere un attimo il sondaggio perché ci sono alcune domande che hanno proprio a che fare anche con questa cosa che è venuta fuori adesso quindi vediamo un po vado io in condivisione a questo punto digital talk eccolo qua perfetto allora noi abbiamo chiesto una serie di domande perdonami se all'inizio sono un po meno legate ma ci piace sapere chi siamo diciamo che l'ottanta per cento di noi non è la prima volta di quelli che hanno votato ovviamente anzi invito chi ancora non avesse votato a farlo in diretta tanto vediamo in diretta l'aggiornamento dei numeri siamo quasi tutti otto su dieci siamo non è la prima volta che siamo a questo digital talk ma abbiamo anche dei volti nuovi quindi benvenuti ai volti nuovi chi siamo il nel 60 per cento di caso siamo consulenti residenti in italia il verde qua non si vede però è residente in italia il rosa che colorea è residente all'estero abbiamo anche associazione di professionisti e dei rappresentanti dell'impresa quindi benvenuti a tutti ecco qua entriamo un po nel vivo quanti ti senti esperto di tematiche riguardanti gli nft davide non so se te lo aspettavi o meno ma nessuno ha messo né molto esperto né super esperto anzi c'è una piccolissima percentuale di fatto un voto solo che ha detto abbastanza esperto non so come leggere l'asterisco lo leggo esperto e amen perdonatemi il 90 per cento praticamente anzi il 90 quello che è il 94 per cento si dichiara o poco esperto ne ho appena sentito parlare quindi come dire praterie di fronte a a voi a noi per espandere questo questo argomento infatti diciamo che questo proposito direi che molti usano molte aziende molte sono uno degli utilizzi dell'nft è proprio a livello di marketing che è una buzzword che funziona molto bene e attrae subito l'attenzione e oltre ad avere ovviamente l'utilità alle funzioni che ho spiegato quindi molte cantine magari forse possono utilizzarlo proprio come attività di marketing poter entrare insomma suonare all'interno di giornali e riviste invece di sconto gratis che possiamo metterci questa esatto allora in quale misura gli nft potranno aiutare il potenziamento del made in italy nel mondo nessuno ha risposto tantissimo però tra un parecchio rido su questa parola l'ha fatto giovanni il scarico solo su di lui molto è diventato un parecchio però ci piace l'entusiasmo quindi tra abbastanza e parecchio comunque superiamo l'86 andiamo insomma quasi all'87 per cento dei votanti quindi comunque tanta fiducia in in questo settore c'è anche chi dice poco ma non c'è nessuno che dice per nulla questo diciamo che ci fa piacere pensando che noi abbiamo puntato molto su questo immagino immagino ecco questa è veramente ampio raggio e la più varia la variabilità delle risposte è altissima qua in breve la domanda è chi può guadagnare di più con questo tipo di operazioni quindi parlando di nft in ambito vino cantine rete vendita privati investitori in ambito cripto non so quello che è di più il non so tutti quelli citati ancora non mi occupo di vino i compratori e diciamo che se togliamo il non il non so direi che vince ma adesso perché si è aggiunto un voto in questo momento gli investitori in ambito cripto non necessariamente specializzati in ambito vino c'è solo un voto per le cantine questa onestamente mi lascia un po' sorpreso ti lascio sorpreso anche te o penso sia l'altro invece sì è 18 per cento quindi mea culpa hai perfettamente ragione è vero questo mi fa piacere ok ok sì 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 avevo letto male io perché sì giusto sono partito al punto sbagliato beh mi aspettavo comunque di più ormai mi arrampico sugli specchi però mi aspettavo di più e insomma io direi che come il nostro concetto è quello di garantire tre stakeholders come come diciamo nel nostro progetto perché appunto abbiamo le cantine abbiamo il piccolo appassionato di vino che magari non può tenersi grandi vini in casa perché non ha la struttura per farlo e poi eh per quanto riguarda il mondo cripto chi insomma è abituato a investire in criptovalute eh diciamo una criptovaluta eh che è eh che sia che è supportata dal valore del vino eh insomma è molto più stabile di quello che abbiamo visto ieri con la principale criptovaluta il principale progetto di finanziamento Deffi ha ha perso il 99 per cento di valore eh quindi l'ho visto giusto prima la notizia di uno che aveva investito un milione e otto eh due anni fa e adesso si trova con mille giusto per fare ma che gratta capo rischia di preaverlo eh sì beh ecco diciamo che forse un eventuale scoppio di bolla come dicevi prima pulisce un po' il mercato da tutte quelle pippo coin o fantasy coin inventate per far numero per far sperando che che ne so Elon Musk scriva da qualche parte che la tua pippo coin è figa tutti la comprano te la vendi e dopo di però la pippo coin è finita insomma cioè lì finisce shiba imu tanto per nominarne una no credo che eh sì 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 questa è una delle tante anche se in realtà sta migliorando come proprio concetto sono stato tra i pirla che non l'avevano mai sentita nominare quando è venuta fuori ha detto ma sai che io due lire ma proprio due ce le metto su shiba imu un giorno dopo boh vabbè però sono le montagne russe del del settore domanda un pochino più eh finanziaria chiamiamo così ce la fa anzi eh venera ce ne aveva chieste due leggo prima questa e poi l'altra si possono creare depositi di nft come i depositi bancari che rischio comportano le nft penso che in parte ti abbiamo già risposto verranno trattate in base in base alla legge bancaria e vado a recuperare anche l'altra tua domanda perché c'era dove sono stoccati in parte fa pandan eh aspetta perché la domanda dove sono stoccati relativa ai vini dove sono stoccati i vini eh aiuto ecco la l'altra domanda che ci aveva fatto sempre lei era questa se la blockchain non è ancora ben definita dalla dalla legislazione italiana le nft possono funzionare indipendentemente quindi direi che a queste due domande sono un po' simili da un lato chi compra un nft ha qualche tutela eh cioè se io investo in borsa sono un po' tutelato no sono mercati regolamentati nelle nft è la stessa cosa lo saranno non lo saranno se non lo sono al momento almeno non così tanto come investire in borsa eh c'è ancora per quanto riguarda gli nft la domanda se sono effettivamente eh asset da investimento o semplicemente oggetti collezionabili perché se no dovremmo andare a tutelare anche chi eh si scambia le carte dei pokemon adesso per centinaia di migliaia di euro non credo che sia tutelato a livello di rischio finanziario eh per molte legislazioni e e quindi diciamo c'è ancora da capire questo per quanto riguarda gli nft al contrario invece delle criptovalute insomma è abbastanza chiaro che sono degli strumenti eh finanziari le criptovalute sono regolamentate come una moneta fiat una valuta fiat o no almeno non in molte quasi da nessuna parte eh diciamo che qui a dubai dove adesso mi trovo stanno lavorando molto bene per dare un frame ehm legislativo per eh tutto quello che riguarda gli asset digitali proprio in senso più più lato che può essere appunto eh un nft che può essere un terreno in un eh un mondo virtuale che può essere anche la criptovaluta e ecco sì eh mi ripeti un attimo le altre domande che magari eh allora no la prima soprattutto la prima era se si possono creare depositi di nft come depositi bancari beh eh appunto la difficoltà dell'nft è eh avere un un valore certo in che senso essendo un eh un asse digitale unico perché appunto è proprio la caratteristica dell'nft non punchable e si calcola il valore dell'nft come l'ultimo che è stato a cui è stato venduto quell'nft che è quello che si usa il sistema che si usa anche per diciamo le aste di opere d'arte eh ci sono tra l'altro anche delle dei progetti defi defi sta per decentralized finance eh in cui è possibile chiedere dei prestiti eh mettendo come collaterale un nft però ovviamente eh sì rimane sempre il concetto di capire se effettivamente il prestito che viene fatto è coperto dal valore dell'nft ottimo allora prima di andare ad un'altra domanda ancora di Niccolò poi vedo anche Vincenzo ha fatto una domanda volevo ricondividere lo schermo perché c'era una domanda legata appunto agli nft in cui ci siamo divertiti diciamo così a chiedere al nostro eh al nostro utente ok immagina di dover lanciare un nft entro la fine dell'estate a quale bene o servizio si riferirebbe e a quale ambito quindi food servizio arte salute queste cose qua le domande sono varie ed ampie quindi li leggiamo velocemente insieme allora salute i nostri digital talk questa ho quasi l'impressione che sia Giovanni stesso ad avercela inserita ma non ne sono sicuro però abbonamenti partecipazione societaria e food immagine digitale di persone già famose servizi informazioni e pagamenti ancora servizi food e servizi servizi vero che magari c'erano tra gli esempi questi però direi che torna abbastanza spesso fantastico chi ha scritto il mio brand mi piace sicuramente ha qualche servizio non lo so food tipo pasta servizi digital export management credo arte davide un commento veloce su queste su queste risposte visto che servizi torna spesso appunto quindi non legati o almeno non necessariamente legati ad un sottostante fisico reale una bottiglia nel tuo caso ma anche legati a a qualcosa di oltre che non fungibile non tangible non toccabile insomma certo beh io direi che eh più o meno rientrano quasi tutti in quelle quegli esempi che ho fatto durante diciamo il mio intervento perché appunto una cantina che decide di dare una membership alla fine quasi rientrare tra i servizi o comunque tra i non tangible perché effettivamente una membership non è un asset fisico eh sono sicuramente tutte funzioni che eh in effetti riesce a coprire perfettamente senza tra l'altro andare a eh ogni volta cambiare il tipo di approccio con il cliente finale ok ok ti giro ancora una domanda proprio di Giuseppe Vargi che ti chiede il valore dell'NFT è direttamente collegato alla criptovaluta che lo denomina anzi io farei una cosa chiedo scusa Davide cioè ti ho fatto la domanda in realtà non ti faccio rispondere ti faccio rispondere subito però direi anche che ci sono ancora un paio un po' di domande da leggere ma Marco che dici direi anche di aprire i microfoni così magari chi vuole parlare magari gentilmente giusto per non sovrapporci mi manda un eh un messaggio in privato o lo chiede in chat insomma così apriamo apriamo esatto one by one insomma proprio per non evitare per evitare il casino quindi ti rilego la domanda Davide il valore del dell'NFT è direttamente collegato alla criptovaluta che lo denomina beh eh questa è una bella domanda perché c'è sempre da capire soprattutto per i gli NFT che non hanno asset o funzioni vere eh dietro qual è il loro valore indipendentemente dalla valuta certo che se io eh diciamo sto eh vendendo il mio NFT in Ethereum e in quel giorno l'Ethereum crolla eh ovviamente chi in quel momento va a convertire dollari o euro in eh Ethereum e si compra l'NFT ci ha guadagnato eh rispetto ad averlo comprato qualche giorno fa e qualche giorno prima se invece eh io possiedo solo Ethereum il prezzo in Ethereum rimane sempre lo stesso che sia crollato o no il valore dell'Ethereum non ha avuto nessun beneficio ovviamente uno non è eh costretto a vendere in criptovaluta perché eh gli NFT possono essere venduti anche in eh con la carta di credito e quindi sì il problema del valore è è quello eh capire quale sia un valore senza un asset fisico dietro una funzione o un utilità un utilizzo di questo NFT eh è difficile ed è per quello che abbiamo visto faccio un esempio eh vendere il primo tweet del fondatore di Twitter per se non ricordo due due milioni di di dollari come cose del genere e e poi quando il proprietario di questa NFT ha cercato di rivenderlo non ha avuto offerte maggiori ai 2000 euro eh perché nessuno ci ha trovato lo stesso valore che ci ha trovato il primo proprietario. Quindi sì ecco il valore come dici te è un po' come un quadro appunto che valore ha un quadro dipende da chi lo compra chi lo vende io magari investo su il quadro fatto da Marco Piva perché sono convinto che i quadri di Marco Piva domani diventino eh sia lui sia il nuovo Van Gogh se lo diventa ho vinto se non lo diventa non ho vinto ma quello che dicevi te dell'acquisto in Ethereum è un po' quello che noi tutti non tutti noi ora qui oggi siamo specializzati in vino ma tutti abbiamo a che fare con l'estero se io compro qualcosa negli Stati Uniti e pago in dollari magari io lo pago sempre cento dollari ma se per comprare diciamo quei cento dollari chiaramente eh beneficio o come si dice subisco il cambio a euro dollaro a meno che non operi tutto in dollari compro in dollari vendo in dollari a quel punto non mi interessa se il prezzo del dollaro sale o scende no? Però con Ethereum ad esempio vale esattamente la stessa cosa eh per cambio di quella di quella di quella cripto di quella cripto esatto 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 nel frattempo sì eh Giuseppe Valgio che è il nostro presidente ci saluta che ci lascia ci chiedeva Nicolò dove sono fisicamente stoccati i vostri vini su cui poi fate gli NFT? Sì eh i nostri vini sono in un deposito eh doganale eh in Italia eh e ovviamente specializzato nella conservazione di questo perché perché eh appunto avendo eh come eh chiave proprio come concetto cardine del progetto del fatto di poter eh trasferire la proprietà dei vini eh in qualsiasi parte del mondo senza effettivamente eh puoi ritirare il vino se non al momento del consumo eh appunto avere e stare dentro a un eh deposito doganale da ovviamente tutti quei vantaggi eh fiscali e e anche di trasporti che che può dare il questa tipologia di magazzino ecco domanda eh che mi viene al volo ma dal momento in cui io stocco questo materiale cioè se l'avessi comprato in euro in dollari quel 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 prodotto quella bottiglia di vino da collezione poi dovrei pagare il lo stoccatore il deposito doganale per la conservazione da certe temperature la tutela la privacy la la sicurezza contro il furto dovrebbero compratto in in una con una criptovaluta o dei costi poi di mantenimento del dell'NFT in questo caso? Beh nel nostro caso noi ovviamente chiediamo una membership diciamo a chi compra a chi partecipa al nostro progetto quindi effettivamente sì c'è un costo eh che eh noi per esempio non facciamo pagare se si compra un determinato quantitativo ogni anno e questo insomma dipende un pochino da come uno si struttura. Ovviamente si possono fare anche eh che è quello che sarà poi eh il web 3.0 che è l'evoluzione del del web quello che adesso è definito 2.0 quello dei social quello del di tutte le informazioni centralizzate all'interno di grandi database come Facebook e Google il web 3.0 è quello quel web che è tutto basato su blockchain eh tutte le informazioni non sono di proprietà di nessuno se non di chi detiene appunto l'NFT o la criptovaluta o l'informazione stessa ecco in quel caso si può anche pensare di eh non sapere effettivamente chi possiede l'NFT diciamo come nome eh nome cognome ma eh poter garantire la proprietà univoca di una bottiglia e di far pagare effettivamente un deposito una fee ricevendo il pagamento in criptovaluta senza sapere effettivamente chi ne ha pagato a livello di nominativo anagrafico sapendo però che viene da un determinato wallet criptografico che detiene l'NFT e quindi questi sono è l'evoluzione quello che sarà. Io so che mi ha pagato AB1724 per dire non so chi è ma so che sono certo che sia AB1724. Esatto. Ok ok ti faccio un'altra domanda che ci ha fatto Vincenzo poi se ho saltato qualche domanda scusate ma ce ne sono state parecchie quindi credo di no ma può essere. Che ci chiede Vincenzo in un mercato dove viene richiesta un'etichetta esclusiva a livello mondiale come Cina, Giappone eccetera può essere usato come leva per entrare in quel mercato? Etichetta esclusiva si intende? Allora io ho a livello diciamo normativo Allora a livello normativo viene richiesta perché ci devono essere le retro etichette in lingua insomma con le diciture in lingua. Non so se Vincenzo intendeva dove il cliente richiede un'etichetta un'etichetta diversa esclusiva o esclusiva per il mercato cinese ad esempio. Vincenzo se vuoi puoi aprire il microfono ovviamente puoi farlo insomma eccetera altrimenti vedi te se vuoi riscrivere in chat eccetera. Nel frattempo. Grazie. Ah ecco Vincenzo vai Vincenzo ciao. Sì no intendevo dove come abbiamo anche visto diciamo sappiamo tutti un cliente già cinese se va in one search e trova un'etichetta che tu gli vorresti vendere e la trova in un e-commerce in America ti dice no io quel vino non lo voglio perché lo vendi in America già voglio un'etichetta mia cioè quel quel vino che tu mi devi vendere deve essere solo mio quindi possiamo collegare questo NFT diciamo rendere quella quella solo per quel mercato può essere una leva per entrare in quelle anche se è un grosso distributore non so cinese. Io posso dire che insomma è facile personalizzare ogni NFT legato a una bottiglia cioè facendo una struttura diciamo di database adeguata poi andare a registrare un NFT diverso per ogni bottiglia è possibile. Tra l'altro è quello che si fa perché se io devo cambiare la numerazione per ogni NFT dovessi cambiare anche una foto per ogni NFT non mi costa più fatica. Mi costa sempre la stessa difficoltà quindi se questa è se ho capito bene la domanda insomma sì è possibile personalizzare proprio nel dettaglio ogni NFT ovviamente poi l'etichetta cartacea quella sono problematiche che non saprei rispondere Vabbè quella l'etichetta è un problema nostro quindi cioè degli export futuri e già export manager quindi C'è ancora una domandina del sondaggio che possiamo andare a condividere nel frattempo ripeto eh chi vuole come ha fatto Vincenzo prendere parola ovviamente per numerosi scettici gli NFT hanno tutte le caratteristiche della bolla. Quanto sei d'accordo con loro? Nessuno dice completamente c'è un molto eh 7 su 16 quindi 43 per cento 44 che dice abbastanza ma diciamo che tra chi si e chi no il poco lo metto nel no si divide la platea esattamente al diciamo al 50 per cento eh che ci dici Davide beh presumo che tu propenda per il no ma eh sì c'è diciamo il no ovviamente perché eh se penso la mia tipologia di NFT quella che ho descritto eh oggi eh dico questi tipo di questo tipo di NFT non è eh più di tanto soggetto a una bolla speculativa però abbiamo visto insomma eh ragazzo indonesiano se non sbaglio che ha fatto cinquemila selfie li ha venduti tutti eh per milioni di dollari alla fine un milione qualcosa ciascuno in ventiquattro ore e adesso penso che può essere una bolla speculativa eh poi il tempo ci dirà chissà chissà quello ha venduto il suo brand molto bene sì decisamente chiamalo Bischero scusate eh ma mi ci metto allora io volevo eh fare un accenno e un saluto ehm anche ad una cosa che in Uni Export Manager sta prendendo molto piede e che anzi Davide mi piacerebbe anche farti conoscere che è il nostro premio il premio Export Italia è un premio che l'associazione eh sta spingendo per eh dopo l'idea e insomma la direzione del premio chiamiamola così di di Massimo eh Massimo Cugusi perché è un premio che abbiamo lanciato con un evento fisico a Modena eh cos'è un paio di settimane fa per andare a premiare le migliori storie di Export quindi non chi fa più numeri chi è più presente all'estero queste cose qua proprio perché vogliamo premiare anche il piccolo produttore il so il piccolo produttore di pasta di Gragnano eh non può essere schiacciato da barilla neanche nel nostro premio Massimo so che sei mi ha scritto faccio un saluto ma mi sta per arrivare il taxi per l'aeroporto apro il microfono solo vi saluto con piacere da Riyadh sto correndo all'aeroporto per tornare a Dubai dove dove sarò di nuovo stasera ho sentito questo bel talk con grande interesse un tema attualissimo adesso anche quanto quanto è all'ordine del giorno a Dubai eh il il tema del premio ugualmente e sui nostri titoli proprio oggi vi anticipo che abbiamo chiuso un accordo di channel partner anche con H2Biz che lo promuoverà su tutti i canali nazionali eh stanno arrivando delle belle candidature e con questo scopo che Alessandro giustamente ricordava non mettere solo la medaglia al collo ma se vogliamo fare un paragone scolastico premiere quelli che fanno il bel compito in classe ma che non tirano su il braccio per non far dare una sbirciatina al vicino ecco noi incoraggiamo anche chi fa sbirciare il vicino e fa diventare bravo anche lui vi ringrazio e vi auguro buon lavoro scappo all'aeroporto ciao Massimo ciao a tutti buon lavoro ciao Massimo grazie a te signori se ripeto eh se qualcuno ha qualche domanda volentieri Nicolò sei stato attivo nel farle domande anche te eh vedera se ne avete altre ovviamente siamo qua anzi se ne avessi saltata io una me la sono persa da qualche parte ovviamente intervenite senza problemi vedo eh nel sondaggio avevamo dato la possibilità di far già del di anticipare delle domande mi ho saltata io una e chiedo scusa ed era questa esiste uno standard internazionale di riferimento per il rilascio di NFT al fine di garantire un prodotto di qualità? sì eh beh ovviamente ehm diciamo ci sono vari io parlo dal punto di vista tecnico poi dal punto di vista legislativo anche lì ci sono si sta lavorando anche su questo ehm ci sono due eh ci sono diciamo alcune blockchain in cui eh gli NFT vengono eh creati principalmente le più famose sono ovviamente di Ethereum e eh Polygon poi si potrebbe aggiungere anche Solana come terza blockchain più importante per gli NFT eh ci sono degli standard ovviamente tecnici eh per per la creazione di NFT e sono gergo per quanto riguarda le due prime blockchain ehm il IRC eh eh 721 eh IRC eh 1155 ehm che danno delle sono degli standard di codice che uno può anche copiare incollare e andare a modificare soltanto quello che riguarda i propri dati da inserire. Questo garantisce insomma eh alcune caratteristiche alcuni come si può dire ehm alcune interazioni ecco standardizzate all'interno della blockchain per esempio il 721 è esclusivamente un eh non fungible token cioè ce ne è soltanto uno e un solo proprietario di quelle di quell'NFT mentre il secondo eh l'1155 dà la possibilità di creare dei eh token passate il mio termine semi fungible cioè io posso farne dieci copie dello stesso utilizzando un solo NFT che ha dieci proprietari diversi eh perché eh nello stesso mft sono contenute dieci copie possono essere dieci possono essere cento può essere certo quella che so nell'arte pittura e la litografia uno di cento di centocinquanta eccetera eccetera ci chiede ancora Niccolò appunto che bastava stuzzicarla vedi come si rivaluta il vino nei vostri stock cioè chi determina il valore degli NFT o quindi dei collectibles? Beh ehm allora noi abbiamo quelli che chiamiamo artistici proprio per distinguere la tecnologia in sé dell'NFT e eh quel valore eh è un valore ehm che che prendiamo di riferimento anche a seconda della delle vendite che riusciamo a fare dell'NFT stesso però insomma abbiamo visto che eh circa due volte il valore eh della bottiglia che è sottostante. Quanto riguarda invece ma il valore della bottiglia appunto eh con che riferimento lo prendiamo? Beh noi come riferimento prendiamo quello di Wine Searcher principalmente eh considerando appunto il paese di origine della bottiglia e quindi eh il valore dato dal eh insomma nel paese di origine della bottiglia senza ovviamente includere tasse e trasporto. Ok. Eh questo ovviamente è un insomma è scelto perché Wine Searcher è tra i più grandi eh punti di riferimento ecco del settore. Eh la cantina ha posere di intervento? Eh sull'NFT beh eh ovviamente sì in quanto appunto quello che noi di solito facciamo quando una cantina entra a bordo del nostro progetto andiamo a discutere una serie di funzionalità eh soprattutto dal punto di vista marketing dell'NFT eh in cui andiamo a vedere che tipo di funzioni la cantina è disposta o comunque ci tiene a dare al proprio cliente eh ovviamente considerando quanto poi è difficile per la cantina stessa implementarlo e e e quindi appunto in effetti può diventare poi uno strumento di marketing per andare a dare può essere uno sconto sul proprio sito può essere eh la possibilità di prenotare nella propria eh cantina una serata un ecco quindi io ad esempio io produttore no? io sono una cantina produco un vino eh ti dedico non lo so cento bottiglie di un mio vino su cui facciamo cento NFT ma al proprietario dell'NFT io posso dire ok sei proprietario di una delle mie bottiglie ma anche i proprietari i cento proprietari di questi NFT hanno anche dei servizi aggiuntivi che può essere come lo sconto come dicevi un invito a cena una degustazione quello che vogliamo insomma quello che voglio io ok 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 capito diciamo che un'altra funzione interessante degli NFT sono le le prima perché posso ben identificare un lotto posso eh tracciare insomma con chiarezza chi è il proprietario di quel lotto anche se come dicevo prima non è detto che so il nome e cognome della persona ma eh sono sicuro come sei un suo codice di riferimento esatto esatto e senza che eh la cantina sia coinvolta se eh diciamo io sono la cantina eh Davide Casalini eh eh vendo un NFT a eh Alessandro e Alessandro senza dirlo a me l'ha venduto a Marco e Marco viene da me io sono sicuro che è effettivamente un NFT che io ho fatto uscito e quindi posso dare l'emprimero o il servizio a Marco se sapendo che Alessandro non ha più l'NFT e eh e quindi insomma io fornisco il servizio una sola volta. E girando nella catena questo bene mantiene lo stesso valore non si eh non ha soggetto un un depreciamento che potrebbe essere se fosse un bene fisico di di costi di transazione di di altre cose cioè il valore rimane quello tendenzialmente. Beh il costo di transazione c'è perché appunto eh a seconda della blockchain poi varia eh alcune blockchain costano sui 30-40 dollari a passare un NFT altre costano 7,5 centesimi di eh dollaro eh quindi insomma si capisce quale sarà la blockchain più preparata al futuro ecco. Sì. Ehm e sì insomma il valore stesso del del NFT ovviamente lo decidono le due parti che fanno lo scambio. È un accordo come potrebbe essere anche per l'opera d'arte abbiamo sentito che l'oggetto d'arte venduto in due aste diverse sempre lo stesso quadro eh da Christie's magari nelle due occasioni ha avuto prezzi molto molto diversi tra di loro. Ok. Esatto. Però insomma sappiamo che il costo di transazione ormai è il risoglio e ha questo vantaggio di passare proprio dei eh dei benefici non fisici eh tra una persona e l'altra. Eh sì se io compro una bottiglia poi la vendo a qualcuno che poi la vende a qualcuno come fai ad essere sicuro che io l'ho tenuta alla temperatura giusta non l'ho esposta al sole eccetera eccetera ma se io compro un NFT che poi vendo a Marco che vende a te che vende a che vende a qualcun altro la bottiglia è stata ferma in un magazzino chiaramente mi devo come dire fidar di voi ma mi fido solo di di un ente di una persona in questo caso. Esatto. Ok. Allora Davide senti siamo giunti alle cinque e trentadue quindi direi che noi ci diamo in genere come limite le cinque e mezzo quindi siamo precisissimi. Ringrazio tutti per le tantissime domande. Avrei un'ultima domanda se è possibile. Prego. Come no. Vorrei eh cominciare dal da zero. Come è nato è nata la necessità di creare NFT? Diciamo qual era è stata l'esigenza per creare NFT? Per quale motivo l'hanno creato? Eh come tecnologia? Eh concetto. Sì eh beh intanto è una bella sfida per chi è appassionato di fotografia e informatica. Quindi questo è stato il motivo per cui è iniziato. Poi ovviamente anche eh diciamo non avere un ente centrale che controlli qualsiasi passaggio perché per esempio se mi devo se devo fare un bonifico sappiamo che se non funziona Swift che pratica una sola azienda eh quasi tutto il mondo viene bloccato eh è un potere molto molto grosso dato veramente a un numero molto rispetto di persone. Cosa che con la tecnologia blockchain eh insomma non è possibile fare. Chiunque cioè la maggioranza è quella che decide poi le sorti della blockchain stessa. Cioè Putin anche senza lo Swift bancario può avvare il receipt del del NFT per sopravvivere. Esatto. Ok. Grazie. Grazie a te. Eh quindi Davide ti dicevo io senti ti dedico un minuto proprio per dirci come vi troviamo e se c'è una mail, un indirizzo, internet, un sito quindi insomma LinkedIn quello che vuoi. Poi abbiamo in chiusura. Eh vai. Beh allora intanto ci potete trovare sui principali social quindi LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter con Italian Wine Crypto Bank eh quindi lì potete contattarci. lascio la mia email in chat che è Davide Chioccele di Anifatto. .com e ehm ovviamente poi potete trovarci anche sul nostro sito che è Italian Wine che eh vi invito a visitare ovviamente fin da subito ma anche eh la settimana prossima perché stiamo lo stiamo aggiornando continuamente e dalla settimana prossima troverete un un importante aggiornamento in termini proprio di contenuti. Eh abbiamo ovviamente anche una sezione news in cui insomma terminiamo aggiornati sia su quello che facciamo ma anche eh soprattutto su quello che è eh il mondo del vino e degli NFT. Sì. Poi è stato riportato sia in il link per quanto riguarda la la profilo personale di Davide sull'evento su su sulla pagina Unixport Manager sul gruppo Unixport Manager che sul mio profilo quando ho fatto la pubblicazione e riverrà fatto quando pubblicherò il video sulla sezione vino quindi anche dal dai post su LinkedIn potete risalire facilmente sia eh Italian Wine Crypto Bank sia il profilo di Davide Casalini. Ok anche perché esatto ricordiamo che abbiamo avuto buona presenza di in diretta ma eh poi magari qualcuno ci sta guardando indifferita quindi. Io già sto seguendo Davide. Ok. Bene. Ottimo vedi. Vi invito a contattarvi eh per qualsiasi domanda e ho comunque interesse sul sul mondo degli NFT applicato al vino perché insomma si può sempre studiare qualcosa di nuovo e qualsiasi nuove applicazioni anche diciamo oltre a quello che ho presentato oggi. Molto bene. Allora io ringrazio ancora tutti quelli che hanno anche avuto la pazienza di stare con noi fino fino a quest'ora. Grazie a tutti. Grazie a te Davide. Marco a te ovviamente cioè ti ringrazio doppiamente per tutte le settimane. Eh sì no ringrazio anch'io tutti. Settimana prossima troverete il video su YouTube. Grazie a tutti. È stato un argomento interessante come vedete anche l'Export Manager deve evolvere insieme al mercato e abbiamo fatto un passaggio nel futuro che poi è meno futuro di quanto sembra perché ce l'abbiamo già in casa è già attivo adesso però eh ci permette di stare aggiornati vedere come evolve il mercato come evolvono le aspettative e anche magari le forme di pagamento di scambio di prodotti che si avvalgono di queste nuove tecnologie quindi è bene sapere un po' cosa sta succedendo intorno a noi. Eh ringrazio anch'io Davide per il suo intervento ringrazio a tutti quelli che hanno fatto le domande e bene Alessandro ci vediamo alla prossima direi. Alla prossima. Grazie a tutti. Buon venerdì sera. Buon venerdì. Grazie a tutti.